Oggi andiamo nella valle di Albaredo, la valle del Bitto, terzo passo San Marco, poi giriamo all'Alpe Lago e si andiamo dalla stessa strada. Ottimo, si parte! Vicino a via Priula si vede il Leone di San Marco. E' la strada che collegava praticamente il Ducato di San Marco con la voltellina e poi proseguendo in nord Europa. E' incredibile vedere Lino come pedala, guardate che classe, ginocchia strette, sta un po' basso perché ha fatto un'operazione all'anca, comunque tra qualche mese compie 80 anni, c'è solo da imparare. Lino, compagno di avventure stupende! In fondo, in quella conca, si vede il Passo San Marco e questa è la valle di Albaredo. L'arrivo della Fly Emotion, nata nel 2011, un'esperienza di aerovolo spettacolare che collega le due valli. un'esperienza di aerovolo spettacolare che seller con un sottotitolo. sullo sfondo tutta la valmasino con il badile cengolo eccetera eccetera la in fondo vediamo il lago di como dove si vedono i pali della luce il passo san marco che poi scende nella bergamasca e qua davanti a noi a scendere la valle d'albaredo dietro la valle d'albaredo la valgerola praticamente la dietro dietro al crinale buon appetito! Grazie a tutti.